Sarà soprattutto l'attenzione ai casi di disagio sociale che possano emergere per lo più grazie alla mediazione del tutor condominiale a orientare l'attività dell'amministrazione comunale cremonese che nei giorni scorsi attraverso l'assessore alla Casa Virgilio ha inquadrato il problema di una larga fetta di inquilini delle case popolari che rimangono in uno stato di morosità. Ma non sarà l'unica azione che ha come fine quello di combattere il fenomeno. Il Comune promette di fornire una risposta più pronta e concreta davanti alle criticità legate agli alloggi per lo più riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria che rappresenta il nodo più critico portato all'attenzione del Comune da parte degli inquilini. Dopo la gestione diretta acquisita dal gennaio di quest'anno di tutti gli alloggi che in una parte rilevanti erano gestiti precedentemente da Aller abbiamo avviato appunto questa verifica finalizzata poi a capire le motivazioni di questa situazione. L'idea è sempre quella di approcciarci in un'ottica di accompagnamento alle fragilità. Abbiamo individuato, abbiamo redato un nuovo regolamento per l'ERP, per l'edilizia pubblica residenziale, finalizzata a costruire un patto con l'inquilinato. Noi dovremmo dal nostro canto avere una maggiore attenzione rispetto anche a tutta la partita manutentiva, sia straordinaria, arriveranno risorse e stanno in parte già arrivando significativi, soprattutto su alcuni comparti, San Felice, le case di Via Giuseppina. Nello stesso tempo dovremmo avere un'adeguata attenzione anche rispetto a quello che è la manutenzione ordinaria. Stiamo avviando anche con l'associazionismo e volontariato un percorso finalizzato a svuotare tutte quelle pseudodiscariche che sono nate nelle cantine e negli spazi comuni in questi contesti. È un percorso faticoso, un percorso graduale che però ci impone per quanto ci riguarda un'attenzione forte rispetto a questi contesti e nello stesso tempo però anche un atteggiamento di rigore verso i doveri che devono avere gli inquilini. La presenza dei tutor condominiale ci dà la possibilità di garantire in molti casi una funzione di filtro rispetto a queste stanze. La gran parte delle richieste sono richieste di carattere manutentivo, piccole cose e noi su questo dobbiamo gradualmente adeguarci anche a una tempistica di risposte che sia efficace e efficiente. Nello stesso tempo però abbiamo la possibilità anche di andare incontro a situazioni di fragilità che magari non erano ancora conosciute ai servizi.